Nell'aggiornamento di metà stagione 6 puoi esplorare nuovamente Empero del Capitolo 1. Rivisitando gli antichi luoghi del Capitolo 1 potrai trovare anche la Crepa. Inoltre divertiti nei nuovi parchi acquatici. Ora che il cristallo è rinato siamo tornati nella nostra mappa preferita. Beh, per quest'estate catapulta del tempo, Godi, l'antica mappa del Capitolo 1. E come in ogni stagione, i veri cambiamenti, quelli maggiori, arrivano pian piano che il tempo passa.